Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube. Oggi, come vi avevo preannunciato nel video di ieri, nella partita di analisi tra Adriman e Cosimino, voglio mostrarvi quella che è l'impostazione che secondo me va cambiata a tutti i costi all'interno dei settaggi del pad per poter realizzare i filtranti epici, quei filtranti buggati che tanto sono meta quest'anno e che vi permettono di poter imbucare facilmente le difese avversarie, soprattutto quando il vostro avversario non sa difenderle. Quindi ci andiamo a fare un attimino una carrellata delle impostazioni fino ad arrivare a quella centrale del video e poi andremo ad analizzare tutta una serie di situazioni di gioco che ho registrato durante la mia Weekend League per farvi vedere la differenza che c'è tra questo tipo di filtrante e il filtrante fatto con un altro tipo di impostazione. Quindi senza perdere ulteriore tempo, andrei subito all'analisi di quelle che sono le mie impostazioni controller. Trovate già il video sul canale relativo ai settaggi, guardiamoceli rapidamente. Finalizzazione a tempo, ossia il time and finishing introdotto su FIFA 19, ho impostato sì anche se può essere tranquillamente disattivato visto che alle volte crea più problemi che altro e anche se avete no è possibile comunque sfruttarlo su quelli che sono rigori e calci di punizioni. Indicatore cambio, prossimo giocatore, ossì. Quindi il secondo indicatore che appunto vi permette di poter capire quale giocatore andate a switchare nel momento in cui schiacciate l'L1 non l'analogico, quindi l'L1 nel momento in cui quindi non siete in possesso palla aiuto intercettazioni passaggi? Chiaramente sì, perché insomma la CPU che ci dà una mano ci fa sempre piacere cambio automatico, palle alte e vaganti aiuto movimento cambio automatico limitato su questo ogni tanto mi fate delle domande a cosa serve e a cosa non serve praticamente l'aiuto cambio automatico significa che se avete limitato il giocatore andrà a fare un movimento limitato nella direzione verso la quale stava andando prima di switchare se mettete elevato sarà più ampio, se mettete nessuno chiaramente non ci sarà questo tipo di movimento l'affronta invece su assistito perché mi trovo molto bene con l'assistito, col manuale alle volte vado fuori tempo passaggio elegante automatico ovviamente no per evitare che il giocatore vada a fare colpi di tacco a caso estremamente triggeranti rinvii automatici anche in questo caso no per evitare di perdere il pallone in situazioni spiacevoli tiri automatici in questo caso sì perché magari capita una palla vagante che il nostro giocatore vuole buttare in porta e va bene aggancia giocatore ovvero il player lock che è stato introdotto quest'anno con R3 delle tre ovviamente sì dribbling agile contestuale no, già ne abbiamo parlato abbondantemente in un video dedicato colpi di testa assistiti no perché in questo caso online non funziona l'assistenza cambio con la levetta destra in base al giocatore aiuto passaggi rasoterra assistito e arriviamo al nocciolo del video ossia l'aiuto passaggi filtranti che vedete impostato su semi semi è l'impostazione che assolutamente va messa per la realizzazione dei filtranti di fatti o prima giocavo con assistito e possiamo leggere che ci dice che il passaggio filtrante verrà indirizzato verso un tuo compagno con la giusta potenza e direzione per cui è il videogioco che praticamente decide la palla verso quale traiettoria verso quale giocatore deve andare anche con una determinata potenza anche se voi caricate praticamente tutta la barra con semi invece ci dice che la direzione e la potenza del passaggio filtrante saranno parzialmente assistite quindi magari la verticale del passaggio sarà comunque un po' aiutata però la potenza soprattutto no quindi se voi magari caricate tutta la barra la palla vi finisce dall'altra parte del campo e questo vi assicuro che veramente un vantaggio non da poco di fatti vi dicevo e vi annunciavo prima che ho raccolto tutta una serie di clip che possiamo andare ad analizzare dalla mia weekend league quindi le ho le ho qui pronte abbiamo anche quella che la lavagnetta tattica come al solito per farvi vedere cosa cambia tra assistito e semi quindi vedete in questa situazione recupero palla mio con varan poi con renato sanchez scarico palla verso ronaldo ronaldo faccio partire mbappé e vedete vado a fare il filtrante guardate la palla come viaggia spedita verso mbappé che poi entra in aria e insomma può andare a concludere la sua azione quindi che cosa succede in questo caso allora il filtrante innanzitutto quando va azionato va azionato nel momento in cui tra il potenziale ricevitore del pallone quindi in questo caso mbappé e il difensore intercorre praticamente vedete mezzo metro ok in questo caso con cristiano ronaldo io vado a caricare più o meno circa 3 3 tacche e mezzo in maniera tale che la palla vada a raggiungere mbappé cosa succede andiamo da rivedere che in questo caso avendo impostato semi guardate qui il pallone mbappé lo supera e va a guadagnare campo ed è mbappé che se lo va a riprendere ok cosa sarebbe successo invece nel momento in cui io avessi utilizzato semi scusate assistito e non semi che la palla su questo filtrante non avrebbe proseguito la sua corsa ok vedete perché la palla segue praticamente una corsa che è diversa da quella del giocatore il giocatore che poi successivamente fa il movimento per andare a prendere il pallone con assistito invece praticamente la palla non avrebbe eseguito questa linea qui ma sarebbe finito più o meno da queste parti e di conseguenza mbappé piuttosto che sfruttare il movimento a penetrare avrebbe dovuto fare un movimento all'indietro per far sì che il pallone finisse poi tra i suoi piedi quindi è proprio questo il vantaggio che noi otteniamo dall'utilizzo di semi ossia che la palla è come se avesse una vita propria però è questo proprio il vantaggio perché vedete la palla come viaggia ma poi che sfrutta la sua velocità se la va a prendere e poi va a fare la sua azione andiamo a vedere un altro esempio perché vi dicevo ve ne ho fatti vari qui in questo caso renato sanchez in possesso palla nel cerchio di centrocampo non vedete bene cristiano perché un po coperto da quelle che erano le scritte della live però vedete cristiano e qua ve lo ve lo evidenzio questo è il suo marcatore vedete che più o meno la distanza è sempre quella di mezzo metro che intercorre ok quindi cosa vado a fare vado a performare un altro filtrante in questo caso caricando sempre sulle tre tacche e mezzo e guardate la palla come viaggia la palla viaggia ronaldo se la va a prendere finta tiro a giro rete ancora una volta guardate come quindi il pallone quando ci si trova in questa situazione vedete che il pallone in questo caso sta seguendo una sua traiettoria vedete sta andando qui ed è cristiano ronaldo che dopo andrà a fare il movimento per raggiungerlo e poi completare la sua azione se io avessi utilizzato invece come impostazione quella dell'assistito il filtrante avrebbe seguito questa linea qua e sarebbe finito direttamente su cristiano senza fare questo movimento all'esterno che poi è il movimento all'esterno che ci porta alla rete perché guardate come la palla scivola sia lontano da cristiano ronaldo ma anche soprattutto lontano da varand che è più lento ronaldo quindi poi se la va a prendere mette il fisico davanti con una skill poi vado a finalizzare quindi iniziate già entrare nell'ottica di come in realtà sia un qualcosa di veramente importante di diverso rispetto all'assistito guardate ancora qua una volta con neymar guardate come la palla supera mbappé bappé la ricorre entra in area può servire tranquillamente cristiano ronaldo che finalizza guardate ancora una volta qui io con neymar dopo aver fatto scattare mbappé vado a lanciare ok con la palla che si fa tutto il campo arriva più o meno qua se invece io avessi utilizzato assistito la palla si sarebbe fermata qua più o meno sui piedi già di mbappé e guardate qui la distanza tra mbappé e il potenziale difensore sarebbe stato sicuramente molto più svantaggioso invece con la classica palla lunga e pedalare che si fa con questo tipo di impostazione mbappé la palla se la va a prendere perché ormai è scattato il difensore è rivolto verso il mio neymar e di conseguenza già uno svantaggio nei confronti di bappé che parte non lo può più recuperare e io vado dunque a finalizzare questa questa azione con cristiano ronaldo andiamo a vedere ancora altri due esempi che ho preparato guardate ancora qui una volta con cristiano ronaldo attendo con con pazienza che mbappé vada a imbucarsi anche qua guardate sembra banale ma non lo è perché con assistito la palla non si sarebbe fermata qui sulla punta del piede ma si sarebbe fermata più o meno qua e vi sembrerà poco ma non lo è perché un avversario magari un po più capace che avesse già selezionato in questo caso smalling questo questa mini distanza qui te la va a coprire invece con la palla che comunque si fa quel piccolo quel piccolo campo in più vedete che sfila sul piede di mbappé che poi la va a prendere poi entra in aria finta e conclusione vincente andiamo a vedere un'altra situazione questa situazione qua magari per molti potrà sembrare banale perché diceva beh sì ma qua bene o male come a dai a dai no non è vero poi vabbè qui entro in aria faccio un buon numero e segno e finalizzo non è così perché anche in questa situazione qui più o meno se io avessi utilizzato assistito la palla non avrebbe seguito questa traiettoria qua ma avrebbe seguito una traiettoria un po più stretta per cercare di finire sul piede del giocatore e qui c'è tra la sulla traiettoria più stretta c'è il suo difensore che magari avrebbe potuto fare un autoblock e andare a intervenire quindi cercate di spero che ormai dopo tutti questi esempi abbiate colto no l'importanza del semi perché il pallone non è più pilotato diciamo verso i piedi del giocatore ma verso lo spazio che è proprio quello che uno vuole fare col filtrante no andare a conquistare spazio quindi raga spero che abbiate compreso l'importanza di questa impostazione fatemi sapere nei commenti se già la utilizzavate se l'avete scoperta ora se la proverete o se non la proverete vi ricordo come al solito di lasciare un bel like al video di iscrivervi al canale per quanto riguarda invece descrizione trovate tutte le info sulle live giornaliere che faccio sulla piattaforma viola raga a me non resta altro che augurarvi una buona giornata un saluto dal vostro liberoschi alla prossima ciao ciao